... Magari, eh, va bene. Ditemi voi, eh. Mister Braglia, persa una partita probabilmente giocata, anzi, senza probabilmente giocata, molto bene dalla sua squadra. Sì, noi abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, non si volevano farli giocare, li volevamo tenere più lontano possibili dall'area di rigore nostra, ci siamo riusciti, però è bastato due piccole cavolate, diciamolo sì, dispiace per l'impegno dei ragazzi, per la prestazione, però ci sta anche. Si interrotta la sua serie positiva con Pescara, mettiamola così. Sì, no, ma quello a me mi lascia a tempo che trovo, non è quello il problema. Il problema è che non mi è piaciuto per come sono andate le cose, e poi se gli altri meritano i vinci io sono il primo che dico sono stati più bravi e c'è da fargli complimenti. Oggi non mi piace, non mi piace per come è venuto fuori il risultato, mi dà fastidio. Al di là dei valori del Pescara? Vabbè, è difficile confermare le qualità su un campo simile, era difficile giocare per loro, per noi e si sono visti grandi errori che poi vengono scusati proprio per tanta l'acqua che c'era. la squadra sono contento che ha dimostrato carattere, anche la lettura buona visto che Juve Stab è abituata a giocare dentro l'area di rigore, ha fatto molto di gol sulle mischie, su pale, su pale ferme e penso che li abbiamo limitati quasi tutte. In questo sì, poi c'è la possibilità di ripartire, siamo anche ripartiti, ma non siamo arrivati fino in fondo. Con questo gol sono felice per questo gol ma soprattutto per la vittoria della squadra che sicuramente non era una partita facile con questo tempo e poi con gli avversari che erano molto chiusi. Niente, siamo contenti per questa vittoria. Diciamo che sono entrato esterno alto a destra in un ruolo che, dire la verità, non avevo mai fatto in carriera però mi sono adattato subito e penso di aver dato tutto a me stesso per dare una mano alla squadra per tracassare i risultati. Rispetto alle altre volte abbiamo giocato non da pescata però il risultato ci premia, ci premia per la cattiveria che abbiamo messo in tutti i 90 minuti, ci premia perché abbiamo giocato contro una squadra che è l'otta che voleva fare risultato e poi ovviamente contro il campo che abbiamo visto tutti in condizioni pessime con le giocate che facciamo noi è difficile giocare così quindi siamo contenti per i risultati.